andiamo a fare una musura ma che la fai? fai la due la fai la uno no no fai la che la fai? se la fai la cimbalone sono in cocaghiera che ha regolito tre volte si fa la soltata uno qui dietro uno qui dietro pensatevi in tre quando sei avert la barriera quella che stai arrivavano le vado a vette il nascolo ho trovato vero o no? mi aspitevi che si arriva ad ossa e lo puggevo a questi trici Grazie a tutti.